ciao a tutti e benvenuti all'ipsic studio oggi siamo qui per dare un'occhiata un po' da vicino alle potenzialità del buy 1073 un preamplificatore e qualizzatore che si rifà a niv 1073 ascoltiamo cominciamo dalla batteria la batteria è in mono attiviamo il Q un'occhiata un po' un'occhiata un po' e ascoltiamolo su un basso un po' 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 Compressor is the way So compress your track Sweet emotion Compressor is the way So compress your track Ok, this is Rallyby 1073 I invite you to subscribe to the channel And to activate the notifications with the bell Make a like and leave a comment below Ciao a tutti!